A mancare all'appello non sono solo i soldi incassati durante la festa dell'unità di Abano Terme, circa 100.000 euro che servono per pagare i fornitori, ma ora si aggiunge anche un altro ammanco, questa volta nel conto corrente della sezione termale dell'Ampi, dove Fatalità, il tesoriere, è sempre la stessa persona che va al controllo dei conti della festa dell'unità. La conferma dell'ammanco di soldi anche nelle case dell'Ampi arriva dalla presidente di Padova, Floriana Rizzetto. Chiaramente è molto inferiore a quello del PD, però per una sezione territoriale è praticamente tutto quello che arrivano, cioè 3.850 euro. Certo, una cifra è inferiore, ma per la sezione dell'Ampi è un grande danno, perché quelli sono soldi dei tesseramenti che servono per organizzare iniziative. La scoperta è avvenuta dopo la notizia della sparizione dei 100.000 euro della festa dell'unità delle Terme. Essendo il tesoriere lo stesso, è sorto il dubbio, da qui la scoperta dell'ammanco. Ora per il tesoriere, che è già stato sospeso dagli incarichi del PD, arriveranno altri provvedimenti. Ho avuto indicazioni dal nazionale, quindi faccio quello che mi dice il nazionale, una sospensione cautelativa, e devo procedere alla denuncia. La sospensione ho già attivato la commissione di garanzia e entro oggi faremo la denuncia.